In corso di svolgimento a San Giovanni in Fiore il decimo congresso internazionale di studi Gioacchimiti che chiama a raccolta esperti di livello internazionale. Da oltre 40 anni il centro contribuisce ad una straordinaria rifiuritura di ricerche e pubblicazioni sulla figura e sul messaggio di Gioacchino da Fiore. L'abate calabrese insieme a Dante e Francesco da Sisi è l'autore più studiato della tradizione culturale nazionale sia in area europea sia in area americana. Il congresso 2024 è incentrato sul rapporto tra Gioacchino e la Bibbia. Se uno va a leggere i titoli delle opere di Gioacchino si rende conto di questo lavoro che lui ha compiuto con le Sacre Scritture, la concordia del Nuovo e dell'Antico Testamento, il trattato sui quattro vangeli, il salterio a dieci corde, il commento all'Apocalisse. Ecco, basta solo i titoli per rendersi conto che c'è stato questo grande approfondimento, questo grande rapporto perché nelle scritture Gioacchino individuava un percorso, un senso, la direzione della storia. Da decenni, grazie al lavoro meticoloso e costante del Centro Internazionale di Studi Gioacchimiti sono state tradotte le opere dell'Abbate. Con questo siamo al decimo congresso, ad oltre 70 pubblicazioni e 850 seminari in Italia e all'estero. Gioacchino si è interpretato come un interprete della Bibbia, quindi ragioniamo su un aspetto centrale della sua personalità di teologo, di abate, di autorità ascoltata dagli uomini del suo tempo, ma non, come spesso si dice, come profeta. Certamente quando Riccardo Cordileone gli chiede la spiegazione di un'immagine o quando Enrico VI lo consulta dicendo come mai non riesco ad entrare in Napoli assediata o quando Costanza d'Altavilla gli chiede consigli, ecco tutte queste persone vedono in lui il profeta e lui in fondo accetta questo equivoco di buon grado, ma nello stesso tempo continua a dire guardate che io non sono un profeta, io sono un interprete della scrittura. Ciò che ha consentito di poter dedicare a questa figura e agli scritti che lui ha prodotto nel corso degli anni è stato importante per la presenza di un gruppo di colleghi che sono diventati amici, che hanno lavorato a livello dell'edizione critica, un lavoro lunghissimo, ci sono voluti veramente 40 anni, ma soprattutto al fatto che in un'altra forma di amicizia noi siamo stati, come dire, quasi coccolati dal centro di studi Gioachimiti che ha messo a nostra disposizione tutto quello di cui noi avevamo bisogno, che ha pubblicato i lavori senza sindacare su nulla e soprattutto che ha fatto un po' da tramite dall'appoggio che anche la popolazione di San Giovanni ci dava.